Porteremo avanti anche con le altre province, con le buone o con le cattive, perché, ripeto da un punto di vista dello Stato, certamente da un punto di vista dello Stato la democrazia significa discutere come stiamo facendo in questa serie, la democrazia significa ragionare, la democrazia significa anche decidere, e questa è la vera democrazia, non è l'anarchia che invece è una situazione alla quale siete stati abituati nel passato, questa è la vera e allora per arrivare al punto fondamentale, per arrivare al punto fondamentale del fatto che si sia identificato questo sito, ovviamente potete tutti immaginare che non è stata una decisione semplice, non è stata una decisione presa a cuor leggero, è stata una decisione che è stata frutto di un lavoro accurato di analisi, di studio, di verifica sul territorio di quelle che erano le situazioni precedenti. È stata una scelta che è finalizzata a garantire la provincializzazione di quello che si produce nelle diverse province. C'è già, ve lo dico subito, c'è già chi in altre province di questa regione guarda con grande ansia all'eventuale momento in cui si possa aprire il sito di Lontano, perché pensano di portare anche da altre province qui, ma vi posso garantire che passeranno sul rio Padale prima di questa Italia. lo sto dicendo, lo sto dicendo, lo stiamo registrando, lo stiamo registrando. La grande differenza rispetto al passato è che questa volta si fanno delle operazioni colorose e difficili, a quelli che sono riempiti si prendono e si rispettano. E questo lo vedrete, lo vedrete appunto nel corso delle prossime settimane.